Stefano, ti ritroviamo alla Coppa Teodori, l'anno scorso sei stato uno tra i grandi protagonisti, a che punto della forma, della condizione, dello stato dell'auto ci arrivi? Allora, qui per noi veniamo sempre volentieri, però quest'anno siccome siamo partiti un po' in ritardo perché abbiamo fatto un progetto nuovo, siamo passati da Losella alla Nuova Proto, siamo partiti un po' tardi e la prima gara l'abbiamo fatta solo in Slovenia tre settimane fa, per iniziare a capire qualcosa sulla nuova macchina. E lì è andata bene perché siamo riusciti a vincere, però comunque era una strada molto sconnessa, quindi non abbiamo preso tanti riferimenti. Questo è il vero test, ci scontriamo con i piloti più forti che abbiamo in Italia, qui il livello è altissimo, con dei distacchi veramente ridotti, quindi avendo dei riferimenti con la Pia 30 dell'anno scorso, dove eravamo andati bene, cercheremo di prendere quello come spunto e vedere come siamo messi. Questo è stato protagonista, come detto, in Slovenia, spiegaci un po' il format di questa Coppa Europa. La Coppa Fia è la versione ridotta del campionato europeo, diciamo, ha una valenza minore, sono molte meno gare e ci sono meno concorrenti, quindi comunque è come il CVM e il Supersalita in Italia la differenza, questo è. Quali sono gli avversari più agguerriti contro cui dovrai combattere? Beh, qui 8-10 avversari ci sono, io sia i 2.000 che i 3.000 qui sono competitivi, quindi comunque sono 10 i piloti più forti che si lotteranno i primi 10 posti. Noi cerchiamo di fare del nostro meglio, non è il risultato il nostro obiettivo, ma è quello di fare i chilometri con la macchina nuova. Hai avuto modo di analizzare e testare il tracciato? Sì, il tracciato sì, pressoché sembra essere invariato, ci sono alcuni punti un po' disconnessi dove hanno fatto asfalto nuovo e saranno i punti più delicati da esaminare in prova per poi vedere qual è il setup giusto per la gara.